In collaborazione con SparCasse, cassa di risparmio. Conosciamo bene. Andiamo in partita con forza e vediamo cosa succede. Sono tanti giocatori che hanno anche giocato in Italia nell'Arcas. Il punto di riferimento di questa squadra qual è? Secondo me loro battono molto bene. Allora teniamo la battuta di loro e vediamo come battiamo noi. Andiamo con forza e secondo me aspettiamo una bella partita. Conosci bene la Champions League, l'hai già giocata diverse volte quest'anno. Come ti sembra il livello? Secondo me adesso io sono in una squadra più forte. I loro risultati sono anche... Aspettiamo ancora ancora più forti risultati e vediamo. Ma la Champions League è sempre molto bene per giocare. Io aspetto questa partita con felicità. Ultima cosa, il tuo momento personale. Stai giocando tanto, stai trovando anche una maggiore intesa in attacco. A Muro ti conoscevamo già. Ma sì, io lavoro ogni giorno. e questo è il mio obiettivo. Vediamo cosa succede adesso con Muro, ma secondo me io voglio e posso giocare bene in Muro. Vediamo che cosa avviene. Vediamo. 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 Vediamo.